Vai Paolo! Cazzo! C'è bellissimo! Ciao Paolo! Ma perché corri in questa maniera? Che sembri un borseggiatore! Abbiamo fretta ad arrivare da te! Eh lo so, faccio questo effetto! Paolo Ligioi! Ma hai un cognome di origini? Siciliane! Ah non cinesi! Ligioi! Paolo Ligioi! Età a 41 anni, nato a Siracusa, vive a Milano, professione recupero crediti! Ecco perché corri! Esatto! Devi essere attuato! Il tempo è denaro! Perfetto! Allora! Raccontaci del debito che noi potremmo aiutarti a distinguere! A fine mese mi scade la rata dell'assicurazione della macchina! Che macchina hai? È un'utilitaria un po' scassata di 12 anni! No dillo! Assolutiamo pure! È un fiestino! Un fiestino per un partino! Allora! Un fiestino, questo fiestino è assicurato per la somma di euro? 430 euro! Per una macchina di? Scutibile! Per una macchina di scutibile! Per una macchina di scutibile! 30! Corre! Ma perché il costo corre sempre! Allora ti faccio il quiz! Dico, stando sul posto, in surplus! Allora! 4-5 indizi dipende dal tempo per indovinare un anno! Primo indizio è questo! Il 18 settembre di quell'anno Michela Rocco di Torre Padula compie 20 anni! Mentre Enrico Mentana, in quello stesso giorno, aveva 35 anni, 8 mesi, 3 giorni e le ore contate! Vediamo le foto! Allora, la bella Michela aveva già tre anni prima all'attivo la fascia di Miss Italia, mentre il nostro direttore aveva già all'attivo la fascia della salute del dottor Gibo! Quindi, quello era un anno in cui Michela aveva 18 anni! Auguri Michela! Andiamo col secondo indizio, questa fascia proprio che evidentemente non segui Miss Italia né Mentana! È un anno terribile per tutte le coppie italiane, infatti dal febbraio di quell'anno le fidanzate cominciano a chiamare il loro partner Trotolino Amoroso! E la colpa è tutta 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 di questa donna, questa canzone, anzi questa coppia! Ti chiamerò, Trotolino Amoroso e tutta tutta da da, e il tuo nome sarà il nome di Amici! Segnalo anche che qua Amedeo Minghi sembrava Megaloman, aveva i capelli! La fiamma di Megalopoli! Tu guardavi Megaloman? No, mai! Tu guardavi Megaloman? Forza guardavo Megaloman! 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 Megagagaloman! Era così per darti tempo! Lo guardavo anche io! Lo guardavi anche, sì sì te lo stavo per chiederti! Corri, corri, corri! Terzo indizio, terzo indizio, caro Paolo Lee Joy, noto il mastino sul lavoro, quindi sarai una persona determinata, sono certa che ce la farai, terzo indizio è questo, la nata cinematografica in Italia è dominata dal film Ghost, con Demi Moore e Patrick Swayze, buonanima! Abbiamo come al solito rigirato la scena principale perché la setta ha speso milioni di euro per i buoni pasto di Luca Telese, regia il filmato! Che ora sono? Sono le due e un quarto! È un lavoro, è un lavoro, è un lavoro come un altro! La scena del vaso di terracotta, questa l'hai vista? Sì sì ho vista, famosissima! Bella! È una scena che dimostra che si può dare forma anche alla materia inanimata, Demi Moore, voglio dire! Ma qualche fantasia così sessuale come un fantasma ti succede qualche volta a te nella tua vita? Ma preferisco quelli che hanno una corporeità nella quale si è parli! Ma se non ci presentano anche va bene un fantasma! Ma no che tristezza! Con la donna invisibile hai avuto un flirt tu! Sì ma a volte durante le serate succede anche quello! Allora Demi Moore come la vedi? Viva! Viva! È lontana, non ci sta guardando! Demi Moore è una bella donna che anche lei non si è arresa al tempo che passa! Ghost l'hai visto? Sì! Sì! Ma non è una domanda! Cioè non è questo il quiz! Quindi non... L'ultimo indizio! La madre di tutti gli indizi, quarto ed ultimo! Ultimo! Allora quell'anno il nostro paese ospita una manifestazione sportiva importantissima! Le menti più creative d'Italia, piene di entusiasmo e di gin partoriranno un origine... partoriranno un origine... una bellissima mascotte! Questa! Che entri! Vabbè! Vabbè! E allora diglielo! E allora diglielo! Facciamoglielo! Questa! Che opera d'arte! Che opera d'arte! Guardate che emozioni quanta gioia ci ha regalato in una sola estate! Sto parlando di Marian! Invece adesso proprio mi volevo concentrare su Ciao! Vabbè! La bellissima mascotte creata per i campionati mondiali di calcio! Gio, se hai capito l'anno, puoi dire per esempio quanto costava una cena in pizzeria in quell'anno? Un ulteriore aiutino! In pizzeria in due mangiavi con anche 12 dollari! 12 dollari! Le vecchie 24 mila lire! A Siracusa davi 12 dollari e ti portavi a casa tu! 24 mila lire! Marco? Di che cosa vuoi dire? Io ho capito! Tu hai capito l'anno? Diciamoglielo, andiamo a far fiesta! Allora, è un piacere probabilmente assegnare questa cosa a chi fa il mestiere di recupero crediti! Un piacere! Un grande piacere! Ma l'estrazione ha voluto così! Perché più di così vengo e te lo scrivo io! Paolo Ligioni! Ti do 10 secondi per recuperare non crediti ma credibilità scrivendo la data! È scritta Paolo? Fatto! Fatto! Pose il penarello! Se indovina, regalagli anche il tuo quadretto di ciao che lo attacca sul cruscotto a modi santino! Guarda, sono sicura che questa idea se la porta a casa! Vado! Gira il foglietto! 1990! Vediamo la controprova! E ci mancherebbe! E va bene! E va bene! Ma allora io lo diciamo! Nooo! È giusto! È giusto! È giusto! Per tempo lo metto ciò! Ciao! 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 Ciao!